Donato Toma nomi non ne fa, ma fa intendere chiaramente quali saranno le modifiche alla giunta regionale, che, sue parole, avverrà a cavallo dell'epifania. Sarà un cambiamento gentile, dice nel corso della trasmissione Millibar andata in onda su Telemolise ieri sera. È quell'aggettivo gentile a svelare le trasformazioni in giunta del nuovo anno, il riferimento e all'ingresso di una donna all'interno dell'esecutivo regionale. Toma nomi non ne fa, ma il rebus è di facile soluzione. Basta procedere per esclusione. Delle quattro donne presenti in consiglio regionale, una, Micaela Fanelli, è esclusa d'ufficio, essendo arruolata all'opposizione. Passando alla maggioranza, Paola Matteo è stata eletta in orgoglio molise, ma la formazione è già rappresentata in giunta dal suo fondatore, Vincenzo Cotugno. Filomena Calenda, invece, eletta ad aprile 2018 nella Lega di Salvini, ha a suo sfavore non tanto il voto contrario espresso in occasione del piano trasporti, quello che ha mandato sotto la maggioranza nell'ultimo consiglio regionale, ma un cambio repentino e non comunicato di orientamento sul tema, questo secondo quanto gli imputano i soccommenti in consiglio regionale. Resta quindi in piedi una sola candidatura, quella della consigliera ex leghista Aida Romagnuolo, che è pur vero che risulta da tempo tra la pattuglia dei dissidenti, ma che dalla sua, a detta della maggioranza di centrodestra, può vantare una linearità e coerenza di comportamento. La staffetta dovrebbe essere dunque questa, dentro la Romagnuolo e fuori Luigi Mazzuto, destinato probabilmente ad altro incarico e proiettato in vista delle elezioni politiche, quando ci saranno, verso un seggio in Parlamento. Da rivedere a questo punto anche le deleghe, l'assessorato di Mazzuto, lavoro e politiche sociali, verrebbe spacchettato in due, alla Romagnuolo andrebbe il sociale, a cui probabilmente si aggiungerà lo sport, mentre per la delega al lavoro i giochi sono ancora aperti. Bisognerà aspettare adesso solo qualche giorno, la Befana è già in viaggio sulla scopa, e vedremo all'arrivo quali saranno le facce con e senza carbonella che usciranno dalla sua sacca.